abbiamo poche notizie di sant'arciso il giovane martire dell'eucarestia vissuto verso la metà del terzo secolo a roma forse era un diacono più probabilmente un accolito giovanissimo adolescente forse aveva solo 12 13 anni negli anni 257 258 l'imperatore romano valeriano scatena una dura persecuzione contro i cristiani ordinando di arrestare vescovi sacerdoti e diaconi per condannarli a morte anche il papa assisto secondo viene scoperto mentre incontra un gruppo di cristiani riuniti segretamente nei pressi di un cimitero e viene ucciso per sfuggire alla morte i cristiani si radunano in luoghi segreti qui pregano innalzano inni e lodi al signore e quando tra loro vi è un sacerdote celebrano la messa pregano nelle catecombe nelle case in luoghi lontani da sguardi indiscreti di nascosto e con la paura di essere scoperti e uccisi a quel tempo dopo la messa i sacerdote chiedeva a qualcuno di portare la comunione ai cristiani che non avevano potuto partecipare perché erano in prigione ammalati o anziani tarcisio ha coraggio da vendere anche se giovanissimo ha capito quanto sia importante portare il corpo di gesù ai fratelli nella fede che non hanno potuto riceverlo e si rende disponibile per svolgere questa pericolosa missione nella quale lo sa bene rischia la vita così di notte dopo avere partecipato alla messa celebrata nelle catacombe attraversa passaggi segreti ed esce portando con sé un panno di lino nel quale sono state a volte alcune ostie consacrate una volta mentre cammina a guardingo stringendo al petto il preziosissimo tesoro viene fermato da alcuni soldati incaricati di ricercare e di catturare i cristiani gli chiedono dimostrare che cosa nasconde tarcisio sa che nel lino che stringe al petto c'è gesù e ocarestia quel gesù che lui ama teneramente il tesoro più prezioso che dio ha donato agli uomini l'eucarestia i soldati lo minacciano lo spingono e lo strattonano ma tarcisio non cede non permette che l'eucarestia finisca nelle mani dei nemici di gesù e dei persecutori della chiesa alla fine vedendo la sua ostinazione i soldati inviperiti e colmi di furore lo picchiano a sangue tarcisio muore sotto i loro colpi ma non cede i cristiani raccolgono con grande devozione il suo corpo e lo seppelliscono con onore in una catacomba qualche anno dopo cessata la persecuzione la tomba di tarcisio diventa un luogo privilegiato dove i cristiani si radunano per pregare e celebrare la messa oggi tarcisio vive felice e per l'eternità in paradiso la chiesa lo ha proclamato patrono dei chirichetti proponendolo come esempio per tutti i ragazzi che servono la messa all'altare